Un saluto a tutti e a tutte da Andrea Cartotto. Ci avviciniamo a Ferragosto, fa anche un pochettino caldo, ma siamo ancora sul pezzo con la nostra didattica digitale, nuovo videocorso dedicato qui sul mio canale YouTube Trainer Andrea ancora una volta a PanQuiz, una ottima applicazione per la didattica interamente made in Italy ideata e sviluppata da Paolo Mugnaini. Allora qui sul mio canale trovate le puntate precedenti in cui vi ho mostrato come utilizzare PanQuiz via web registrandoci, poi come utilizzare la app ufficiale che scarichiamo da Play Store e oggi vediamo come utilizzare la versione sempre ufficiale dell'app di PanQuiz per dispositivi Apple, dunque disponibile su App Store. Quello che state osservando è il desktop di un mio iPad, aggiornato all'ultima versione del sistema operativo Apple, dunque iPadOS. L'icona colorata di PanQuiz la vediamo già nella mia dock bar, cioè nella barra in fondo orizzontale, è quella con la spunta e i quattro colori. Vado ora ad avviarla sbloccando il mio tablet con l'impronta digitale, eccoci qua. E vedete che io ho a disposizione, guardate vado un passo indietro, i due pulsanti svolgi PanQuiz e accedi, il verde per riprodurre e quindi giocare con il nostro quiz, il tasto blu accedi per entrare come docenti. Ecco che già io avevo in precedenza inserito uno dei miei account scolastici istituzionali, vado a completare con la password opportuna, tocco sul tasto blu accedi ed eccoci qua in questa modalità landscape, cioè una modalità orizzontale panoramica che io ho scelto per il mio tablet e mi sento di consigliarvela perché vedrete che ci permetterà davvero di operare come se fossimo davanti ad un personal computer. Allora abbiamo il menu a sinistra che spazia da Crea PanQuiz con cui io potrei da zero creare con grande facilità un quiz didattico da proporre agli alunni oppure ancora in i miei PanQuiz io ho a disposizione alcuni quiz di esempio già forniti dalla app stessa e dal servizio stesso. Scopriamo insieme la storia di internet che è proprio quello creato da me nel primissimo test di PanQuiz e poi c'è un le note musicali. Come avrò fatto ad avere lì questo quiz? Guardate, tocco i tre pallini, vado a scegliere elimina ed ancora si eliminalo e vediamo insieme come ha fatto un bel gioco educativo sulla musica a finire lì. Guardate, io questa volta ho voluto sfogliare il grande archivio di PanQuiz, quindi quello che è già a disposizione di tutti i docenti perché PanQuiz è anche comunità educativa ed educante. Vado a toccare la lente in alto a destra e in cerca PanQuiz in alto digito ad esempio primaria, poi confermo o con la lente in alto con il tasto invio sulla mia tastiera di iPad. Scorro un pochettino i quiz presenti per la scuola primaria, PanQuiz sta crescendo e piano piano continua ad ampliare i suoi contenuti. Guardate un po' le note musicali. Donatella Columbaro, la sua autrice, perché in didattica e negli elaborati digitali occorre sempre dare merito agli autori delle opere del proprio intelletto. Allora, vedete che io con gioca potrei direttamente farlo giocare agli alunni, ma in realtà vado a toccare visualizza, perché io qui cosa posso fare? Io posso con duplica e salva toccare il tasto blu, vedrete, e con PanQuiz ho questa funzionalità. È stato creato da un altro utente, quindi non può essere direttamente modificato ed è logico, ma se prosegui il PanQuiz sarà prima duplicato senza modificare l'originale e poi salvato nei tuoi PanQuiz. Bravo Paolo anche per la chiarezza dei testi esplicativi in queste finestre. Io confermo con il tasto blu su sì, duplicalo e salvalo. Ed ora vi ho svelato, come dire, il mistero. Avete capito come ho fatto ad avere in i miei PanQuiz le note musicali. Ora io tocco modifica e osservate titolo, descrittivo, vado su domande, dove vedete il 5. Qui ho le domande così come pensate dall'autrice di questo quiz, ma ne vado ad aggiungere una. Guardate, tocco più, aggiungi domanda, guardate la facilità d'uso. Domanda 6 e qua vado a digitare simulo. Allora, quali sono le prime tre note? Allora, risposta 1, guardate com'è semplice, vado proprio a toccare. Risposta 1, do, re, mi. Risposta 2, la, sol, re. Poi tocco sul più per aggiungere un'ulteriore risposta possibile, qua vado a scegliere fa, la, do. E poi, con un tocco su do, re, mi, contrassegno la risposta 1 come corretta. Vado su opzioni della domanda e vi mostro anche quanto sia semplice aggiungere, sempre dalla app, una immagine a corredo della nostra domanda, senza caricarla dall'esterno, ma ricercandola all'interno della libreria messa a disposizione da Panquiz. Io clicco su cerca, tocco su cerca nel mio caso, in gergo quando si tocca su dispositivi mobili si dice che io sto facendo un tap, quindi sto toccando. Tocco nella riga trova immagine, digito musica, poi tocco la lentina o l'invio sulla tastiera del mio dispositivo mobile ed ecco qui alcune immagini a nostra disposizione. Avevo cercato anche music, quindi con musica o con music avevo differenti risultati. Tocco la tastiera del pianoforte perché mi piace, insomma la vedo a fine ecco ad un quesito posto riguardante le prime tre note e io ho completato già il mio lavoro, guardate, perché potrei andare a graduare il punteggio in punti, il tempo necessario per rispondere. Tocco su salva ed ho effettuato la modifica. Quindi ripercorriamo brevemente i passaggi tramite la lente in alto a destra con una parola chiave, ho guardato se vi fossero insomma quiz già realizzati da colleghi per poter compiere una corretta rielaborazione, sempre citando l'autore. Poi l'ho duplicato, quindi ho duplicato il quiz che è finito in i miei panquits, l'ho magari ecco ritoccato al bisogno ed ora sono pronto per farlo giocare ai miei alunni. Con un tocco sul tasto blu gioca, con un tocco ancora su inizia a giocare, l'unica cosa che i miei alunni dovranno avere sarà o la app ufficiale di panquits per Android oppure ancora per dispositivi Apple, oppure ancora, ora ho toccato avvia, basterà che aprano un qualsiasi browser e che digitino in alto nella barra degli indirizzi play.panquits.com inserendo il pin che l'insegnante, in questo caso io, vado a fornire. Con un tocco su inizia, naturalmente avvierei la mia attività didattica che qui non va in esecuzione perché non c'è ancora alcun partecipante, per cui dopo aver suscitato la vostra curiosità, vi invito a consultare qui sul mio canale YouTube Trainer Andrea la playlist ufficiale dedicata a panquits, ma soprattutto vi invito a sperimentare già per settembre questa ottima risorsa made in Italy destinata a crescere e che sono sicuro farà rumore nell'utilizzo che noi ne potremo andare a fare nell'ambito della didattica digitale in presenza o in un eventuale contesto di dia di didattica a distanza. Ancora un caro saluto da Andrea Cartotto.